Con il dottor Pacchioni, il presidente della BCC Sangro Teatina, premio importantissimo, questo frutto della storia e dell'attenzione al territorio. Sì, questa è una banca che nasce nel 1903 per volontà di un religioso, Don Epimenio Giannico, che arriva ai giorni nostri semplicemente ed esclusivamente sul lavoro svolto sul territorio e per il territorio in questi 116 anni di storia che la banca ha. È un premio importantissimo di cui siamo onoratissimi di averlo ricevuto e che premia tutta quella che è l'attività svolta in questi anni dalla banca. Che cosa significa ricevere un premio oggi anche alla presenza del Premier Conte? È un premio importante perché ci accosta forse impropriamente al lavoro che svolgono quelli che sono l'attuale viceministro, quindi non di poco conto. Sicuramente siamo onorati di questo riconoscimento, soprattutto perché ci viene anche riconosciuto in questo particolare momento, quando le banche oggi sappiamo sono un po' brutte e cattive. In realtà direi che tutti questi comunicati che vengono effettuati da tanti organi di stampa che parlano delle truffe delle banche, io direi e sottolineerei le truffe delle tre banche perché non bisogna fare di tutto un'erba un fascio. Come sappiamo in Abruzzo molte banche locali non esistono più e quindi evidentemente qualcosa di buono abbiamo fatto e lo facciamo con impegno insieme a tutti i miei preziosi collaboratori, insieme al Consiglio di Amministrazione proprio per poter reinvestire sul territorio quei risparmi, quel sudore delle persone del nostro territorio.